Se tolgo la grandissima maggioranza degli analisti e storici della Seconda Guerra Mondiale, l'operazione Barbarossa, l'invasione della Russia da parte delle truppe tedesche fu l'inizio della fine della guerra per la Germania, l'episodio che causò la perdita del conflitto mondiale. Ma quella battaglia non fu decisiva a Stalingrado nel 1943, fu quello che accadde due anni prima a rivelarsi di fatto decisivo, cioè il fatto di aver compiuto un'operazione del genere, un'invasione del genere con un ritardo che si rivelò assolutamente non adatto a completare le operazioni entro l'inverno russo, quindi raggiungere Mosca entro la fine del 1941. Un errore che aveva compiuto anche Napoleone 130 anni prima in una situazione molto diversa, ma di fatto sovrapponibile da questo punto di vista. Hitler commise un secondo errore, le truppe tedesche commise un secondo errore imperdonabile che costò le sorti di quella campagna. Invadere un suolo russo e trovare popolazioni contadine, pochi inclini al comunismo, non è di fatto capaci, se trattate nel giusto modo di riconoscere un po' come liberatori le truppe naziste, sarebbe stata probabilmente la causa che avrebbe evitato il cementare di uno spirito patriotico, uno spirito antinazista che insieme ad altri fattori come il cattivo equipaggiamento, il non sufficiente addestramento delle truppe tedesche, che alla fine si rivelò decisivo e pesò sulle sorti di quella campagna. Quello di fatto fu l'inizio della fine.